Ciao a tutti, auguri di buona Pasqua! Abbiamo pensato di farvi una piccola sorpresa. Non è il massimo, ma almeno ci abbiamo provato. Spero vi piaccia. Adesso faremo la Post-it Challenge! Consiste nell'attaccarsi un post-it in fronte e in base ai consigli che le do, deve capire cosa c'è scritto. Iniziamo! È un essere umano? È una cosa? O è un animale? Allora, è una cosa. Che però non si può muovere, non può nemmeno parlare. Sta solo fermo, nel senso. Allora, vediamo. È una cosa, una persona o un animale? Animale. Ok. Che colore è? Dipende, c'è marrone scuro. Ora non capiamo il doppio senso, eh? Marrone scuro, marrone chiaro e basta. Forse ho iniziato a capire qualcosa. Allora, vediamo. Quindi è un animale, giusto? Sì. Che colore è? Bianco. Non è un coniglio, vero? Sì. Però... Cioè... Coniglio pasquale? No. Coniglio di Pasqua? No. Quando una cosa è grandissima. Coniglietto? Grandissima coniglietto. Coniglioni. Buono, non mi viene in mente, dai. Io dico quello che ho capito. Ok. Cioccolato? Sì. All'altro è buonissimo. Non mi piace fondente, va beh. Non importa. Dunque, dammi qualche indizio. Allora... Quando una persona è proprio grande, grandissima, c'è un soprannome. Ti che soprannome ditaresti? Gran coniglio. Allora... Non ci arriverai mai. Ok, benissimo. Dunque, ti faccio qualche domanda. Vola? Siamo coniglio. Coniglio volatile. Eh, vediamo... È un coniglio... Però è grande. Sì. Il coniglio della lind. No. Cioè... È un coniglio pasquale. Eh. Però è grande. Ah, dillo prima. La colomba. No. Coniglio colomba. Coniglio. Non mi viene in mente. Ma il coniglio, come si fa a dire che colomba? Ma che ne so. È dolci, tipici della Pasqua. Daphne, non mi viene in mente. Dammi qualche altro indizio che ti posso dire. Con che inizia? Gi. Eh. Gigante o coniglio? Prima coniglio. Coniglio o gigante? Sì. Mmm. Capito. Allora, vediamo. È un animale o è una cosa? Una cosa. Ok. È una persona, un animale, una cosa. È una cosa. Vediamo. Che colore è? La cosa è marrone, dipende, chiaro e scuro. Ok. Però è incartato e qui ti ho dato un indizio grandissimo, quindi dovresti cercare. Il coniglio di Tudia Lind. Madonna, questi coniglietti. Il coniglietti da tutte le parti. Ok, ci penserò su. Tocca a te. Ehm. Di che colore è? Trasparente. Poi può essere anche bianca. Come ti pare? Allora, vediamo. Quindi è incartato. Ma è una cosa, ma raffigura un animale oppure... No. Ok. Non è una cosa da mangiare oppure... Eh, non so se l'avrò mangiata. È di plastica. Ne so io. Per me è di plastica. Il materiale è libero. Eh, allora, dunque. Quindi è incartato... Dove si vende? Dove la vendono? Nei supermercati. Eh, grazie al cavolo. In tutti. Ora, in questi giorni poi... Uova. Uova di Pasqua. Sì! Ok, tocca a te. Puoi dare indizi. Eh, allora, ti dico che... Si trova tutto l'anno. Non esaurisce mai. Non è di Pasqua, non è di niente. È di tutto l'anno, insomma. Poi è trasparente. Ha due cose che si portano per portarla. Una busta? Sì. Ho fatto una cavolata. È una cosa o una persona? È una cosa. Allora, vediamo. È un animale oppure una persona o è una cosa? Una persona. Ok. È una cosa da... Che si mangia oppure... È una cosa da mangiare. Una persona, la conosco? Sì. Molto bene. Va bene. È di questi... Cioè, la vendono in questi giorni oppure in tutto l'anno? Sì, sono in questi giorni. Dunque, quanti anni ha? Non lo so, forse... Dai, più o meno. Circa. Una quarantina? Non lo so. Ok. Non lo so. Oh, va bene, dai. Non è che dobbiamo essere proprio precisi. Quindi, ok, va bene. Vai, tocca a te. La colonna? No. Non è mia, è il favore. Non ti mangio. Vediamo. Quindi, la conosco. È una persona, è una quarantina d'anni. È un'usosio. Vabbè, più o meno, dai. È il mio parente? È il mio mamma. No. Il mio fratello. No. Il mio babbo. Babbo e Lisa. Sì, babbo e Lisa. Ciao, va. Vai. Allora, ti posso dire che si mangia? Vabbè, te l'ho già detto. Solo in questi tempi. Ora, però, se te l'ho visto... Vabbè, dai, te lo dico. Ciaccia. Di Pasqua. Eh, babbo, non sapevo come spiegarti, quindi. Allora, vediamo. Che colore è? Rosa. Carne. Pelle. Madonna. Che genio! No, no, qui. Rosa. Pe. Cioè... Io avevo capito che era pelle. No. Scusate, falso allarme. È una persona. Eh, sì. Dunque, è un essere umano, una cosa, una persona. Una persona. Tutte persone. No. Beh, niente. Vai. Parteciperà o partecipato... Parteciperà a un programma. Intimo. Quali? Amici. Ehm, vediamo. Quanti anni ha? Ehm... È sempre, non lo so. Ehm... Di che anno è? Penso... Una cinquantina. Non lo so. Ok, va bene. Ehm... Daffi, tutti così complicati! Mamma mia! Vai, tocca a te. Di che squadra farà parte? Dei no. Sono due quindi. O dici uno e dici quell'altro. E Zuppo, mamma mia! Ehm... Allora, quindi... Lo conosco? Sì. Nec. Sì. Ok. Allora, lo conosco. Che lavoro fa? No, non so. Ok. Ehm... Dammi qualche indizio. Si è vista oggi. In giro. La mamma dell'Irene. Posso togliere? Sì. Ciao mamma dell'Irene. Ciao! Prima di concludere, volevamo salutare la nostra cara amica. Si chiama Angelica Guardione. Ciao Angie, ci manchi tanto! Questo video si conclude qua. Se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale. Arriviamo a 70 like per una nuova challenge. Ciao! Ciao!